Beh, allora facciamo un re-party-vacalsi. Bello. Guarda, io non sono troppo d'accordo con questo borsalcio. Ciao a tutti, io sono David e sono qui con Irina e Dimitri. Allora, signore e signori, vi presento la Arrow Chemical. La sapete la sua storia? Il mio nonno che ci aveva lavorato alla fine della Seconda Guerra Mondiale raccontava che era una specie di copertura del governo. Questa storia ha preso una brutta pega. Io l'hanno andrata i protocolli. Potrebbe anche significare che entrambi potrebbero essere venuti a contatto con gli infetti. Le disposizioni erano altre. Non si può diventare anche lì. Eropposia! Eropposia! Grazie a tutti Grazie a tutti